Il vostro compito è servire la carità di Dio. Con queste parole il Cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, si è rivolto ai due nuovi diaconi permanenti ordinati sabato scorso in Sant'Ambrogio. Servire la carità di Dio, ovvero portare il suo sguardo di compassione su tutti i bisogni dei nostri fratelli uomini. Quindi l'arcivescovo ha sottolineato come sia necessario per tutti convertire questo sguardo poiché sono troppe le volte nelle quali siamo tentati di distoglierlo dal bisogno degli uomini in cui ci difendiamo e facciamo finta di niente, in cui resistiamo a coinvolgerci con il grido di chi sta intorno soprattutto dei più poveri e degli marginati. Volgiamo lo sguardo altrove, ha detto il Cardinale, perché siamo schiacciati dalla nostra indegnità ed è giusto avvertire la nostra sproporzione davanti alle sofferenze degli altri ma anche davanti alle nostre sentiamo l'urgenza dolorosa di qualcuno che ci liberi. Dio stesso, ha sottolineato l'arcivescovo di Milano, si fa carico del nostro grido e risponde io starò con te. Poi un riferimento all'anno giubilare della misericordia, un anno nel quale, ha detto il Cardinal Scola, siamo tutti cresciuti nella consapevolezza della nostra fragilità che deve favorire la condivisione partendo da una preferenza chiara per gli uomini e per i poveri. I due diaconi permanenti ordinati in Sant'Ambrogio sono Stefano Accornero, di 51 anni, sposato, padre di quattro figli, che l'arcivescovo ha assegnato come collaboratore alla comunità di Garbagnati milanese e Gabriele Ferrari, 60 anni, anche lui sposato, padre di tre figli, che opererà nella comunità di Colmegna di Luino e alla Caritas di Canale.